Ecco l'entrata in campo delle due compagini, l'arbitro, il direttore di gara della sezione Aia di Sulmona è di colore, i nostri con la seconda maglia ufficiale bianca con risvolti giallorossi, mentre Farah Filumpetri con la maglia gialla con la parte superiore blu calzettoni azzurri, adesso si salutano, adesso si posizioneranno in campo i nostri tifosi ecco i nostri tifosi hanno un altro sfiscio tra pochi secondi avrà inizio l'incontro di calcio, il direttore di gara è andato a verificare l'integrità della rete, fra pochi secondi darà l'inizio alla gara